Oggi siamo qui in un posto particolare, sì perché in chiusura di questa corsa elettorale per le regionali c'è un candidato che ci ha dato appuntamento in quella che in qualche modo considera essere la sua casa. Siamo tra i formaggi e il candidato è lui, Joe Formaggio, con i meloni in mano. Ma qual è il messaggio che lancia in chiusura di questa campagna elettorale? Buongiorno a tutti. No, bisogna credere nei prodotti del territorio, nell'agricoltura del territorio, nel formaggio del territorio, nelle botteghe, nelle nostre industrie. Dobbiamo credere di più in questo Veneto. Domenica votate per chi volete, però votate chi ama il territorio, chi ama i prodotti del territorio e andate a votare perché è simbolo di democrazia e di libertà.